Nella vita, seppur io potevo essere trasferito, a giugno dopo che mi era successo quello fatto, mi hanno mandato un proiettere, il ministro mi voleva trasferire, mi chiamò Ottis, noi andiamo in consiglio ministro sempre il giorno dopo, ci procurano il suo trasferimento, io dissi guardi, rovinerei tutto il buon lavoro che ho fatto, perché la gente penserà che io sto scappando dalla paura, quindi potevo già giugno a darmene, ma c'è veramente quando c'è stato quello di sotto, quindi, e poi appunto poi dopo ho obbligato, perché la preside, la verità l'ho detto pure al direttore regionale, l'ho detto direttore, non faccio movimenti, mi faccio tutto quello che fuori, ma non quello, no, perché a parte conosco la preside, conosco abbastanza bene ormai questo istituto, so che la preside, diciamo, ma fa un po' da allenatore, ecco, la squadra che finisce ha bisogno di buoni allenatori, ecco, a Napoli potrei dire Mazzaro, ma potremmo parlare di Mourinho, che è chi si occupa di calcio, di Guardiola, di Conte, che è il tifoso di Umenino, ma se l'allenatore non è buono, non so se la squadra poi funziona, ecco, perché poi, mi dicevo Mazzoni, noi siamo quel che facciamo, ci riempiamo la bocca, la carica e quant'altro, ma la carica quella deve riempire quotidianamente di contenuto, di impegno, di passione, di slancio, di quella tensione quotidiana per raggiungere un risultato, ecco, l'assessore, io non riuscirei mai a essere pensando come lui, lui ha fatto una serie di considerazioni in più delle comunicazioni molto importanti, ecco, che si interiscono in quella dimensione di cultura del fare che poi non è molto, diciamo, estesa in calabria, tante volte, sono tre anni, tu lo sai, lo ripeto, andiamo ai convegni, la convegnita, la chiamo io, diciamo sempre che dovremmo fare quello, dovremmo fare quell'altro, e io dico sempre, scusate, ma diciamo sempre che dovremmo fare, nessuno che dice stiamo facendo, altrimenti qua, tra dieci anni diciamo sempre dovremmo fare questo, quell'altro, siamo una regione turistica, benissimo, e quando cominciamo, ce lo diciamo solo, e quindi dobbiamo passare dalla cultura della precarietà al progetto, e qui, c'è una prova lampante, che quando c'è la passione, insomma, non perché, perché lo sai, ti stimo tantissimo, lo fai con molto trasporto perché ci credi sciegamente, però ci vorrebbe una contaminazione, diciamo così, ecco, dovremmo essere tutti contaminati da questa voglia, da questa entusiasma, come sempre nelle cose della vita, no? E vuoi fare dovere in ufficio, e tanti, pure insegnanti lo fanno, lei ha toccato un argomento, io ricordo, era ancora viceprefetto, genitore come tutti, dalla vita, capitava che andavano a fare la cinta, alcuni non ci andavano, io dicevo a mia moglie, guarda, queste non ci vanno perché sono poveri, non ci mando nemmeno i miei figli, i miei figli, ho messo due figli, e in più nell'occasione non ho fatto andare i miei figli, non penseranno perché io pubblicamente ero conosciuto, però era una forma di protesta perché ho trovato degli insegnanti e qualche presido ottuso, ho detto, ma ci vanno tutto nessuno, ci autopassiamo, mettiamo qualche cosa in più tutte perché mi sembrava la rabbia in questi ragazzi, cioè si comincia ad essere delinquenti proprio in questa occasione, perché tu sviluppi una rabbia nei confronti della società, il figlio del farmacista, il figlio del funzionario, il figlio del prefetto va a farsi la vacanza, va fuori, va all'estero e quant'altro, e il figlio del cittadino, diciamo, normale, che non si può fermettere, rimane a casta, creiamo, diciamo, una iniquità, una ingiustizia, io non l'ho mandato, perché alcuni mi misero in minoranza, perché penso che poi, ho voluto con l'ottusità e la prevalenza, purtroppo, perché ognuno pensa in funzione dei propri figli, non pensa in funzione dei figli degli altri, a me sentite dire che ho figli un mediocre, nessuno, eppure pensa che i mediocre siano la maggioranza, adesso non è. Ma questo è una locura per me, ovviamente, no? E' analisi dei figli, sono chieste e cose, eh, va bene, ci saranno chieste e cose, però, poi infatti, il cavallo si nota che sulle lunghe distanze, saprai, no? Se uno va nella vita, pensa che, non so, non arriva al massimo, però lo spiura, ma se uno è meglio, deve trovare tante di quelle raccomandazioni per poter arrivare altra parte e al vice altra parte, diventa un po' più complesso e difficile. Quindi, ecco, dico, io dico sempre grazie a questi insegnanti, a questa scuola, a questo nome del maniocentro, perché poi il gioco di squadra è un'altra di quelle cose che stanno sempre vivendo in Calabria, su tutti i temi, anche con oggi, dobbiamo fare il gioco di squadra. E poi questa squadra non si assembla mai. Grazie a tutti. Quando c'è, è pure le famiglie, perché poi bisogna lavorare tutti insieme. Si dice, non è che la scuola la possiamo caricare di tutte le responsabilità. Famiglia, scuola, parrocchia, volontariato, ecco, la giusta finiera per modificare le cose è in un territorio che è il più difficile della provincia catalcaresca. Ci ha commetto lo stesso piano, perché proprio qualche giorno fa ho fatto un progetto sempre, per esempio, c'erano la mezza, sono stati invitati da Don Giacomo a Panizza, hanno fatto una verità, una sorta di intagini sul territorio, su questa tematica. E alla fine è emersa da questa tematica purtroppo pure razzismo e soprattutto indifferenza, che poi è il peggiore dei sentimenti. Io prefisco l'odio all'indifferenza. Preferisco che uno non nutre nei miei confronti, lo faccio per me, preferisco che il mio odio, perché c'è un sentimento. L'indifferenza è una cosa bruttissima e può uccidere più dell'odio stesso. Quindi, questo partire mi ha dato attenzione. Domani parleremo di alcune domande, però mi può indicato l'ordine e sicurezza pubblica. Però io ho sempre sostenuto la preside, il ministro di stimone, che è un problema sociale, che è un problema sociale, che è un problema sociale, che non è come possiamo risolvere e metterli in galera di questo. Li mettiamo pure in galera di operazione, le abbiamo fatte, ne è parecchino tanti altri, perché noi dobbiamo aiutarli a migliorare la cultura della benzina, il proprio è lente che migliora la società. Altre cose non ce ne sono. Dobbiamo fare di più, tutti gli dati di istituzionale a cominciare sempre da me, ci mancherebbe, però chi è dell'ordine è stretto dalla regola. Hai parlato giustamente di legalità. E giustamente, e io ho molto apprezzato, che avete fatto l'apertura prima di Rosarno e poi sono i nuovi simboli, Rosarno, Giorgio Micrano, Pellotto, Pesce, di Romagna, che sono stati nella Commissione del 2007, quando scioglieva Gioia Lago, è passato in sé. Mi sono cercato l'insulto, Ghiarena e quant'altro, quindi tutto il centro, diciamo, brava gente per la verità, molto brava gente, molto molto sono più bestie a tutto rispetto per gli animali, animali sanguinari e ferali, tante altre volte sono persone inappuntate, apparentemente inappuntate, di giacca e cravate, che tendono a tessere i loro collegamenti, che sono collegamenti moltiperi, ovviamente, tessi così ad accumulare denaro, grazie a Dio, alle forze dell'ordine magistratura, anche ieri, l'altro ieri, hanno sequestri e compisci per oltre 200 milioni di euro. Ecco, e questa è una cosa positiva, perché questi, di voi colpire, sono le attacca. E magari acquisendo al patrimonio di comuni, dello Stato, tutti questi beni che ci possono un po' far comodo in Evoca, appunto, di cipendi, di rifiuti, di ristrettezze economiche. Quindi dico, grazie per quelle che avete fatto, grazie per quelle che state presenti, grazie per quelle che farete. Ecco, dobbiamo continuare questo percorso, in cui ci vede, a voi, per quelle che posso, insomma, esservi vicino, ma è una solidarietà, una vicinanza, diciamo, verbale. Però è pure, crediamo di, posso assicurare sostanziale, perché con la preside, quando ci vediamo pure altri molti qua, in altri luoghi, ecco, parliamo di questi problemi, li viviamo quotidianamente, e penso che a voi è chiesto sicuramente uno sforzo ulteriore aggiuntivo, che altri non fanno. È comodo lavorare magari nella Catanzara e bene, o in altre località in cui non ci sono tematiche dello stesso tipo. L'integrazione è un percorso difficile, che richiede tante attenzioni, tanta passione, tanta energia. Però lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare tutti insieme. Non ci sono buone ragioni, come hai detto tu, per cercarsi alemi e per non fare. Noi dobbiamo cercare percorsi di, così, di competenza. E non penso, come diceva Don Giustani, che questo è un luogo di rischio educativo. Io penso che qua si fa formazione ed educazione ad alto livello, ad alto livello, e i risultati già si intravedono, ecco, per lo meno per gli occhi più attenti. Perché, così, parlare di legalità in maniera insistente è una cosa sicuramente importante, perché dobbiamo costruire dei buoni cittadini, diritti e doveri, non solo diritti, noi parliamo sempre di diritti, qualcuno di membro di doveri. Perché la società si costruisce soprattutto sui doveri. perché ce ne dimentichiamo troppo spesso. Poi, hai detto pure che l'Occas non ci posiziona una buona gradodotta, ma questo riguarda l'Italia. Io penso che se dovessimo mettere solo questa scuola, questa scuola si metterebbe nei posti autolocati, eh. Non penso che questa scuola, questa scuola, questa scuola, questa scuola porta eccellenza, quindi sicuramente avremo posizioni molto, molto, molto alte, perché poi, come sempre, come ho detto prima, è la passione che segna lo spazio di acqua tra una buona scuola e una gattura scuola. Perché quando l'insegnante ha motivato, ci mette tutto se stesso, sicuramente i risultati venivano. E poi, soprattutto, la costanza, ecco, questa similità di impegno, che io noto in loro, attraverso le parole della Presse, perché se c'è la motivazione da parte della Presse, lei sicuramente contaminerà tutto l'ambiente, e quindi possiamo essere fiduciosi. Certo, possiamo dire che è un percorso lungo, non è che sarà una cosa facile, una cavalcata, diciamo così, semplice. Però, facendolo tutto insieme, mettendoci tutto, tutto, tutto l'impegno possibile, i risultati, io sono sicuri, che arriveranno. E riusciremo, in certo modo, a contenere, a limitare questo fenomeno. Cioè, l'illegalità ci sarà sempre. Insomma, è nato Gatame Teve, come i Reati, sono nato qua da Gatame Teve, insomma, quella penamera si fece pregata, penamera poi. Quindi dico, dobbiamo avere fiducia, anche in questo momento difficile, un momento in cui la conferenza dei Vesco Calabresi ha espresso forte preoccupazione per la tenuta dello Stato Sociale, perché poi alla fine si rifletta anche sul livello delle istituzioni. Beh, ha fatto la presa da coinvolgere chi c'ha di più. Chi c'ha superfluo, se ne libera un po', penso ai grandi imprenditori, no? Chi se le portano all'altro mondo e li metteranno nella cassa d'amore. E la lasciassi un po' qua. Stai, capisci? Penso che, non lo so che cosa ne ha detto, però lo penso, lo penso. Prendere il mila, cioè, in dieci vendi di loro, prendere il mila, in cinquecenti di un mila euro, non penso che possa modificare di molto il loro patrimonio, certo? E fare qualcosa di piatto poi magari di concilio con la vita e sicuramente col padre Dello. Non penso che un padre Dello ci giudicherà dalle messe che abbiamo sentito, più o meno fasulle e distratte, ma ci risurrerà dalle ore di pezzo, penso. Altrimenti, anche qui c'è una grande pregatura per tutti, ecco, quindi, ci fai del pezzo, ci fai del male, e penso che è una regola come quell'altro latino di un epineb ledere, che lo fondamentale della vita è per, così, è per costruire una società con valori sani, autentici, perché negli ultimi tempi la società si è molto, diciamo, cristianizzata per certi versi, informata al profitto, al guadagno, al dio danaro e quant'altro. Poi questo mondo di per tecnologico non è che è tutto positivo, anzi, dico, le mamme, state attenti, perché qui magari voi dovete portare i figli dal tuo psicologo perché qui c'è la dipendenza da questi mezzi internati, mezzi internati, anzi, poi si dice che non so se l'italiano farebbe male, quindi sta fin ai nostri figli di tenerlo per lo meno a 10 centimetri dall'oreggio perché sembrerebbe che faccia male, c'erano correnti di pensieri diversi, sempre che adesso c'è una sentenza della cassa di su che ha ricevuto uno studio, quindi concludo dicendo che dobbiamo andare avanti, come un vero armato, ecco, bisogna crederci e quando noi crediamo delle cose passiamo da quella cultura della speranza alla cultura della costa consapevolezza anche i progetti più ambiziosi che possano sembrare dei sogni, apparentemente dei sogni si realizzano. Poi pensi che far del bene, così, formare un ragazzo sia la massima aspirazione per gli insegnanti, io ho fatto tutto quello che potevo, ci ho messo l'anima, ci siamo riusciti tutti insieme, cioè, occorre che tutti facciano la propria parte, lo Stato, la Regione, il Comune, la Provincia, perché se puoi stabilire bene e meno, beh, allora poi diventa tutto più difficile, bisogna così costruire questo gioco di squadra, ma penso che qua ci sia questo gioco di squadra, guardate che non è dappertutto così, cioè, molte volte c'è complettualità, molte volte stupide, la crema, i caratteri delle persone, no? La suscettibilità, la permalosità, la paranoia, o qualcuno magari pensa di essere depositario di chissà quale verità, anche perché diventerai incantatori di serpenti e giri ce ne sono tanti, quindi, sappiate le spalle scherane, io mi faremo qua, dico, ci vediamo la prossima volta, appena ci sarà la possibilità, grazie, ma veramente di cuore agli insegnanti e per tutto quello che è stato per il mio amore. Grazie.